La parola romana, cosa di Renica, Massimiliano, superprincipe, turco, illumina, ancora con una doppietta dedicata a Dinna, illumina il party, grande passi. La parola romana, cosa di Renica, Massimiliano, superprincipe, turco, illumina il party, grande passi. Lascio di conto il più grande, amico Ciccio. Attenzione a Riccardo del Sì, è arrivato con le telecamere di Biscotter, fate attenzione perché il team è veramente carico caldo a questa notte e lo ha dimostrato, sicuramente, è sì. Quindi da questo momento in poi è arrivato il momento di insegnare le coreografie agli uomini e donne, cosicché non vi metteranno più le dita negli occhi quando ballano. Siete pronti? Vai!